Over 40, di cosa si tratta? Parte qua da Imperia, dalla laurea magna dell'università, la presentazione del progetto in tutta la Liguria Over 40, è un progetto riservato ai disoccupati o a chi è sotto la soglia minima di reddito e quindi sotto gli 8 mila euro e che non godi di nessun ammortizzatore sociale. Si tratta di un piccolo percorso di formazione con work experience presi a carico e altri servizi che verranno dati dagli ATS e dai centri per l'impiego, dopodiché nella parte riservata alle aziende ci sarà il bonus assunzionale per le aziende che decideranno di assumere a tempo determinato o a tempo indeterminato i futuri lavoratori, si spera, che hanno preso parte al progetto Over 40. Il valore totale è di 10 milioni di euro, finanziato in parte con risorse proprie da Liguria, in parte con l'FSE e quindi con il Fondo Sociale Europeo, riguarderà in tutta la Liguria circa 3.500 persone, abbiamo calcolato secondo le stime che abbiamo potuto fare e va incontro alle esigenze di occupazione di gli ultra quarantenni che sono rimasti senza lavoro. Dico sempre che i giovani sono molti a non aver lavoro, ma a breve ripartirà il progetto Garanzia Giovani 2.0, nel frattempo con una regione di guida abbiamo pensato anche di tendere la mano a chi dopo i 40 anni è rimasto senza lavoro, madre e padre di famiglia, spessissimo.